Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me, mediante la loro parola. Perché tutti siano una sola cosa, come tu, Padre, sei in me e io in te. Siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai data a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità. E il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che quelli che mi ha dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché mi ha amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto. E questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome. E lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi ha amato sia in essi, è io in loro. Parola del Signore. Paolo continua il suo viaggio apostolico, ma incontra delle difficoltà. Coloro che non gradiscono la sua presenza e soprattutto non intendono ascoltare la sua parola, che è parola di verità, la parola di Dio, creano sempre opposizioni e cercano di presentare le accuse in modo che possa essere eliminato il cosiddetto nemico. Paolo era già stato imprigionato perché continuava a pronunciare il nome di Gesù, progettista e risolto, e a divulgare il suo messaggio. Messaggio di pace, di misericordia, di carità, di speranza, di liberazione. E allora gli anziani lo avevano accusato. Il comandante della corte che fa? Fa togliere le catene e fa presentare Paolo davanti al sinerio. Quando Paolo giunge davanti al sinerio, vedi che ci sono due fazioni. I sadducei che non credevano alla risurrezione e i farisei che invece credevano. E allora Paolo anzitutto chiama fratelli, coloro che l'avevano accusato, denunciato, fatto imprigionare. Fratelli. Ovviamente gli anziani, sentendo questa parola, si irritano e appuiscono ancora di più il loro odio verso di lui. Ma Paolo continua e dice Io sono fariseo, figlio di farisei. E sono stato accusato perché credo nella speranza della risurrezione, perché Cristo è risolto. E qui si scatena la discussione tra i sadducei e i farisei. Quindi tutto l'interesse adesso non è verso Paolo, ma verso questa, tra virgolette, professione di fede. Intanto il governatore e il comandante della Corte, vedendo questo grande evento che non poneva più al centro, Paolo, ma temendo per Paolo che potesse essere vinciato, che fa? Fa ricondurre nuovamente Paolo in prigione e lascia che i farisei e i sadducei continuassero a delimere la loro contesa. Ma in carcere Paolo ha una visione, la visione di Gesù. E dice, continua a predicare, ad annunciare la parola del Signore. Paolo continua ad avere carità verso i poveri. Quindi lo fa uscire dalla prigione. E questo è un grande insegnamento per ciascuno di noi, cari fratelli e sorelle. Bisogna uscire da se stessi, dalle proprie idee, dalle proprie convinzioni e allargarsi all'orizzonte più vasto, all'ascolto degli altri. Soprattutto bisogna aprirsi al Signore in modo che si possa dare risposta alle sfide e alle richieste del mondo con la parola di Dio, che è la verità. E' la parola di Dio che indica la via e che fa rinascere, quindi che dona vita nuova. Gesù si preoccupa. Non solo dei discepoli del suo tempo, ma anche dei discepoli o dei seguaci futuri. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me. E noi siamo tra quelli, cari fratelli e sorelle. Quindi il Signore ha pregato e continua a pregare anche per noi. Noi. Perché questo? Per essere una sola cosa. Per essere uniti. Oggi la Chiesa sta celebrare il sinodo. La sinodalità vuol dire vivere insieme, progettare insieme, lavorare insieme, camminare insieme. Il che vuol dire manifestare ad altro ciò che noi siamo, ciò che vorremmo, ciò che abbiamo. senza distinzione di classe, senza simpatie, simpatie o antipatie, ma a cuore e con cuore generoso. Perché fratelli e sorelle, se siamo tutti una sola cosa, come Gesù è col padre e come Gesù è con noi, allora tutto diventa più facile, perché tutti possiamo concorrere veramente al bene comune. Se invece noi rimaniamo rintanati nella nostra vita, nel nostro io, nelle nostre cose, nelle nostre convenzioni, nei nostri interessi, non abbiamo aperture. Siamo egoisti. e non possiamo essere semi di comunione, di divisione. Non possiamo sperare in un futuro migliore per tutti e neanche del proprio migliore futuro, perché si va sempre verso l'abisso che la nostra vita poi si appesantisce, i farvelli diventano ancora più generosi e non siamo capaci di sopportarli né di portarli. Allora diventiamo nervosi, diventiamo molto irascigli, il nostro passo non cammina sulla retta via ma su diuzze e sui vicoli che servono a nascondere i nostri interessi, i nostri tentativi cercando di ingannare, di apparire è quello che non si è. Questo non favorisce l'unità. Allora dobbiamo ritornare a guardare Gesù. Come ha fatto Sant'Antonio? Sant'Antonio nella sua vita terreno ha cercato sempre di avere presente Gesù e la sua parola. Vedete, sulla mano destra la base dove poggi i piedi di Gesù e il bambino è il Vangelo e la Bibbia la parola di Dio e quella parola di Dio era ad essere identificata in Gesù perché diciamo parola del Signore parola di Dio perché è Dio stesso la parola di Dio sono una cosa sola e noi dovremmessimo una sola cosa col Vangelo e quando parliamo se abbiamo il Vangelo nel cuore abbiamo Gesù e quindi parliamo per il bene parliamo e stiamo bene perché non facciamo male ma operiamo il bene e la nostra gioia viene così ad essere alimentata dalla gioia di Dio e la gioia di Dio è gioia piena grazie